bene 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 buonasera se sera naturalmente buongiorno seggiorno dai microfoni di web radio visione undici punto undici siamo in diretta radio in diretta YouTube in diretta Facebook questa sera una serata al fulmicotone ragazzi una serata veramente incredibile dopo il successo enorme eh di della prima trasmissione intitolata la nella Tana del Bianconiglio eh abbiamo ritenuto opportuno eh una seconda parte ma non solo eh questa sera abbiamo eh di nuovo con noi Domenico Biscardi abbiamo con noi il il carissimo amico Vincenzo Iorio e avremo anche con noi la presenza di eh del magistrato giudice Angelo Giorgianni che eh diciamo dopo il suo silenzio stampa eh ha scelto Radio Undici Undici per comunicarci delle novità e quello che sta succedendo in questo momento ma io senza indugio faccio entrare anche il mio mitico amico Rocco eccolo qui ciao Rocco Rocco e i suoi fratelli ciao Antonio un caro abbraccio un tour de force in questa settimana come nelle migliori tradizioni di web radio vi sono undici punto undici perché non è che eh le abbiamo mandato a dire in tutti questi anni abbiamo fatto anche a volte sei sette otto trasmissioni una settimana quindi stiamo ripercorrendo diciamo quel quel cammino lì eh di divulgazione di condivisione soprattutto per questo momento che viviamo ma tutti i momenti passati e futuri che vivremo tutti quanti insieme con un'unica famiglia non soltanto quella di web radiovisione undici punto undici risveglio ma la famiglia di luce ovvero quella dell'energia ovvero delle anime di buona volontà di quelle che hanno la stessa frequenza che puntano con la barra sempre a ditta possono cadere ma poi si rialzano e sono ancora qui questa sera e siamo ancora qui questa sera allora esatto ehm io direi che di di fare entrare intanto vabbè il titolo eh l'abbiamo eh è importante lo stanno leggendo tutti salutiamo naturalmente gli amici della della radio che sono già in palposition qui ad ascoltarci e anche i nuovi amici che ci ascolteranno attraverso youtube eh mh e gli altri canali c'è da dire una cosa questa sera è una serata eccezionale perché sul nostro canale di radio visione youtube ci sono due eh trasmissioni nello stesso momento una è quella di Tom Bosco eh che è una registrata ma che diciamo eh c'è stata la premiere quindi è come fosse una diretta e poi c'è la nostra che è una diretta reale eh però potete comunque eh ascoltarle tutte e due o una eh o poi dopo l'altra comunque rimangono poi nel nostro canale e poi siamo in triplice diretta quindi siamo in diretta radiofonica eh potete visitare il sito di web radiovisione undici punto undici la radio del risveglio poi siamo in diretta su facebook video e poi siamo in diretta su youtube e quindi insomma ognuno può scegliere come ascoltarci e vedersi certo uno che ha un cellulare può vederci soltanto con un un tipo di collegamento ma chi ha il computer può predisporre anche due pagine o tre pagine intanto diamo il benvenuto ai primi amici perché qui non ci sono gli ospiti su web radiovisione undici punto undici qui siamo tutti a casa allora diamo il benvenuto al professor Vincenzo Iorio e al dottor Domenico Biscardi buonasera buonasera a tutti assolutamente mi preparo anche gli applausi allora intanto Domenico eh tuo mal tuo malgrado posso dirlo tuo malgrado qualcuno tuo malgrado sei diventato veramente un personaggio di spicco ehm tu avresti non avresti avresti lo dico io per te avresti preferito non diventarlo in questo in questo contesto senso dubbio però sta di fatto che la tua professionalità il tuo la tua ricerca sta veramente eh incuriosendo tantissimi scienziati medici che vogliono tutti conoscerti quindi stasera abbiamo avranno la possibilità di ascoltarti se ci sono sicuramente ci saranno delle buone novità e poi abbiamo anche il nostro carissimo amico Vincenzo Iorio che ogni tanto ci fa piacere avere qui con noi che ci supporta con la sua ironia e con la sua intelligenza ciao Vincenzo ciao Antonio vedo che appaio sulla tua sinistra perché vedo gli occhi che si tirano dall'altro lato quindi si io non so dove guardare a parte la sinistra noi siamo tutti quanti sempre alla destra del padre e non la politica ai partiti detto questo ricordiamo il titolo ricordiamo il titolo e per chi non conoscesse eh Angelo Giorgianni che sta per arrivare Vincenzo Iorio che già c'è e Domenico Biscardi ricordiamo velocissimamente allora diciamo che questa questo titolo in realtà nel Bianconiglio è un titolo che ehm ci ha consigliato Domenico Biscardi dottor Biscardi e ci piace tanto perché a parte nella prima puntata c'è stato un gran successo ma questa sta diventando una saga una saga quindi nella tela del Bianconiglio aggiornamenti importanti sul siero magico su tutto ciò che sta accadendo avremo questa sera con noi eh Angelo Giorgiani magistrato e giudice antimafia presidente dell'OMV ovvero organizzazione mondiale per la vita e della situazione all'eretico avremo con noi anzi abbiamo già in collegamento il dottor Domenico Biscardi ricercatore medico anatomopatologo ultrasonologo biomedico farmacologo e molto molto altro e e infine abbiamo anche eh il caro Vincenzo Iorio grande scienziato fisico direttore e curatore del museo scuola Achille Sagna di fisica di Morcone in provincia di Benevento oltretutto scrittore ricercatore elettrochimico e e non di meno anche eh addentrato in discorsi spirituali di risveglio di coscienza e anche di fisica quantistica e quindi ultimamente è molto impegnato la mattina per lavoro però sicuramente organizzeremo con lui e anche con Mimmo se vorrà trasmissioni che rasenteranno tra scienza e spirito però che